Pensiero del giorno. Invoco l'Arcangelo Ariel e permetto alla mia immaginazione di brillare di infinite possibilità. Mi concedo di credere nella magia e mi libero dei limiti a livello di pensiero e credenze. Connettiti con l'Arcangelo Ariel. Siccome Ariel protegge la natura e l'ambiente, ha caratteristiche simili alle fate. È umile ma potente, femminile nella sua grazia e nella sua forza. È magico nelle sue abilità di far apparire i desideri in forma materiale. Ariel ti aiuta a riaccendere lo stupore e la fiducia totale che provavi nell'infanzia. Ti mostra che credere nel divino è ora una decisione consapevole che ti permette di uscire da un pensiero rigido che potrebbe bloccare i tuoi tentativi di manifestazione. Oggi invoca Ariel per risvegliare il tuo senso di meraviglia e di stupore infantile. Dopo averlo fatto, segui la tua guida interiore e balla, canta o suona, perché queste azioni facilitano la realizzazione dei tuoi sogni.